Un altro esercizio fondamentale per allenare i tricipiti sono i dip o i piegamenti alle parallele. Potete eseguire questo esercizio in strutture create apposta per fare i piegamenti oppure potete inventarvi la posizione anche su un rack che non è stato costruito per farlo. Il modo più semplice per farlo è utilizzare due bilancieri. Quindi ponete i bilancieri sui fermi del rack e anche se non sono fissi non preoccupatevi tanto grazie al vostro peso riuscirete a mantenerli fermi. Da questa posizione qua vi sollevate, piegate le ginocchia, vi abbassate e poi vi sollevate. Questi sono i dip. Esercizio ottimo per allenare in modo intenso tutti i tricipiti.